Sabato 12 e domenica 13 ottobre Manfredonia è tornata indietro nel tempo con la festa per il suo re, Re Manfredi. Il corteo animato da contrade con circa 400 figuranti, tra balletti medievali, sbandieratori, suonatori di tambure e di chiarine, oltre alla presenza di numerosi cavalli. Ad aprire il corteo ragazzi e ragazze dell'istituto comprensivo Don Milani 1 più Majorano. Gli acrobati del Borgo hanno aglietato gli spettatori con numeri di giocoleria, equilibrismo e mangiatori di fuoco, poi la musica medievale dei Rotatemporis che ha immerso la città in un'atmosfera di altri tempi. Il grande corteo è partito dal molo di Ponente nel pomeriggio e attraversato Corso Manfredi per raggiungere al fossato del castello, dove sono continuati poi gli spettacoli degli acrobati e la musica medievale. Domenica invece è stato il momento del fossato al mattino con giochi per bambini e combattimenti. In serata alle 19 si è tenuto il dibattito intitolato Al nostro ambiente il dovuto rispetto, con una rappresentazione teatrale del Teatro 5 di Manfredonia.